Un 36enne, già noto alle forze dell'ordine, residente nel quartiere Avvocata di Napoli, durante un controllo da parte dei carabinieri del nucleo operativo centro, è stato trovato in possesso di un portafogli all'interno del quale c'era una chiave. Questa chiave, hanno scoperto i militari, apriva la porta di un monolocale di via Francesco Saverio Correra, al cui interno erano occultate cinque pistole, tutte con matricola a brase e un revolver, provento di un furto in un'abitazione, commesso nel 2013 in provincia di Empoli. Oltre alle armi, sono stati trovati anche 68 proiettili di vario calibro, 160 grammi di marijuana e la replica in metallo di una pistola reale. Il 36enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato condotto al carcere di Poggio Reale in attesa di giudizio. Le armi sequestrate saranno poi sottoposte ad accertamenti per verificare se siano stati utilizzati in fatti di sangue o intimidatori.